Musica 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 Bisogna sempre tenere salve queste due virtù, la dolcezza col prossimo e la santa umiltà con Dio. Musica Continuiamo con questo buongiorno di Padre Pio e proprio oggi a ridosso della sorenità dell'Epifania che abbiamo celebrato ieri. Qui Padre Pio in questo pensiero breve ma molto molto profondo che avete sentito ora, ci instrada il santo stigmatizzato del Gargano su due virtù. L'umiltà e la dolcezza. Il pensiero è molto breve ma però come accennavo è fondamentale all'interno della teologia cristiana. Perché? Perché Padre Pio riecheggia qui quello che è l'inno della lettera ai filippesi al capitolo secondo versetto sesto dove l'autore della lettera ai filippesi, possiamo dire anche San Paolo, è un inno liturgico cristologico, dice che Gesù si è umiliato a tal punto fino a rinunciare al suo essere figlio di Dio. In greco è ekenosen, e svuotò se stesso. E quindi quando Pio ci invita all'umiltà, è stupendo pensarlo, ci invita ad essere veramente come Gesù, come il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità della quale non abbiamo paura di confessarlo, siamo tutti innamorati, nella misura in cui noi siamo umili, come lui è stato umili, ecco perché dice oh quanto grande è la virtù dell'umiltà, senza dimenticare che l'umiltà deriva dal latino humus, che significa terra, e quindi anche il nostro legame con la terra. Noi siamo l'arpat in greco, quella parte di terra che è stata riempita dalla nefesh, dal soffio del Dio vivente, ma che dovrà tornare alla terra. E poi c'è, dicevo, l'altro secondo invito in questo pensiero, in questo buongiorno del 7 gennaio 2020, quella della mansuetudine e della dolcezza. Ecco qui Padre Pio ha un grande insegnamento, che suona così. Noi possiamo essere mansueti con gli altri se li sappiamo amare. La mansuetudine non è, sorelle e fratelli soltanto, sia ben chiaro da un punto di vista antropologico e culturale, un'espressione del nostro temperamento. La mansuetudine viene continuamente corroborata dai due principali comandamenti, che sintetizzano tutta la legge, che ci sono stati dati da Gesù. Amare Dio e amare il prossimo. Mi soffermo soltanto sul secondo in questo caso. Dice Gesù, ama il prossimo tuo come te stesso. Ora, come è possibile amare il prossimo se uno non ama se stesso? Ma non in senso egotico o egoista, ma appunto accettando se stesso innanzitutto, così come noi siamo, e quindi potendo poi in seconda istanza amare il prossimo. Mi esprimo uscendo con una metafora antropologica. Noi, se non ci accettiamo anche con le nostre fragilità, se non siamo mansueti con noi stessi, se non amiamo noi, sarà molto improbo poter amare il prossimo, perché le due cose stanno in asse. Ed ecco perché l'insistenza di Padre Pio ad essere umili e mansueti è innanzitutto in capo a noi. Sii umile con te stesso e riuscirai ad essere umile con gli altri. Il viceversa qui, il per converso non vale. D'altro canto, se Gesù venne e viene ricordato nei Vangeli e anche fuori dai Vangeli, pensate a Gandhi, è per il fatto della sua grande mansuetudine, come agnello mansueto venne condotto al macello e proprio per questo ci ha insegnato ad amare Dio con umiltà e il prossimo come autentiche creature mansuete a Dio gradite. Grazie a tutti.